Perché stiamo seguendo, scusate, nota a margine, io mi ero messo in agenda il 24 giugno il Ponte Morandi. Pare che dal Ministero dell'Ambiente ci siano lungaggini o ritardi che mettono in discussione la tempistica preventivata per il recupero dei calcinaci, i rifiuti, non rifiuti, porto, mica porto. Visto che stiamo approvando una roba che si chiama sblocca cantieri, se qualcuno pensa di rallentare l'opera di demolizione del Ponte Morandi ha sbagliato a capire, quindi può essere che domani sia in Liguria perché abbiamo dato una parola e non può esserci qualche burocrate a Roma che rallenta quella che è una presa di impegno e una promessa fatta ai genovesi e agli italiani in generale. Sto verificando col Sindaco di Genova se corrispondono al vero questi intoppi burocratici, se così fosse mi arrabbierei parecchio.